allora buonasera a tutti e a tutte e benvenuti alla tavola rotonda di metodologia della ricerca storica sulle fonti orali intorno ai due volumi edit press buone pratiche per la storia orale curato dal pivistor casellato e testimonianze e testimoni nella storia del tempo presente curato dalla professoressa gribaudi questa tavola rotonda inaugura il secondo ciclo di seminari monodisciplinari conversazioni di storia sui libri di storia organizzato in collaborazione tra la rivista progressos rivista di storia scrittura e il laboratorio universitari stuart culturità di europa dell'università e grenoble alp ringrazio quindi la professoressa ilaria tadde direttrice del laboratorio per aver riconfermato la collaborazione e la direzione della rivista progressos per aver sostenuto nuovamente il progetto passo quindi a presentare gli ospiti di questa serata di studio la professoressa gabriella gribaudi professore onorario di storia contemporanea presso l'ateneo federiciano di napoli è stata presidente dell'aiso l'associazione italiana di storia orale dal 2006 al 2013 e il professor alessandro casellato professore associato di storia contemporanea presso il dipartimento di studi umanistici dell'università ca foscari di venezia poi presento anche massimiliano pinna che questo questa diciamo in questo ciclo sarà anche co coordinatore di questo ciclo di seminari e massimiliano pinna è dottore di ricerca in history politics and institutions of the mediterranean area dell'università di macerata in co tutela con l'isle di lisbona e con una tesi sui rapporti tra sinistra italiana e portoghese pc e psp e la sinistra rivoluzionaria d'extra parlamentare a cui passo passo la parola e anche la parola per il primo intervento grazie elisabetta ben trovati ai professori e anche questo ben trovati anche questo rinnovo di ciclo da sei mesi che non portavamo avanti una un incontro del genere quindi è bello ritornare insomma anche se online chiaramente necessariamente so che siamo un po ancora divisi ecco fisicamente e dopo la presentazione professori giustamente vado a presentare elisabetta sellaroli che è dottoranda qua c'è un complessità perché parlerò francese non la conosco dottoranda in studi italiani con una tesi in storia dell'italia contemporanea presso l'ecol dottore la literatura e scienze umane e laboratori ricerca lui sì dell'università e di grenoble alp e in scienze storiche archeologiche e storico artistiche in cui tutela con l'università gli studi napoli federico secondo con una tesi sull'anti terrorismo italiano nei lunghi anni 70 dal titolo la lutte antiterrorista italiana un'histoire politica e social e di molto bene e come dicevo è un piacere ritornare bisogna parlare di storia e di libri di storia e devo dire che questi sono veramente due libri testi importanti utili utilissimi per chi per chi vuol far storia per chi ama la storia e nello specifico la storia orale a partire anche dalla dalla casa editrice che è di firenze di un quartiere isolotto che ha una sua storia precisa che si può inserire serenamente nella narrazione storica della città di una firenze differente contemporanea che ha una sua una sua storia precisa le proprie peculiarità della di una zona diversa dal centro che avremo anche il piacere di di raccontare nelle nuove sessioni del 2022 con con un testo e ci andremo quindi a parlare di di questi due questi due testi il primissimo della nuova collana appunto di storia orale di edit press che testimonianze e testimoni nella storia del tempo presente e il quarto in ordine libro di storia orale buone pratiche per lo storia orale del professor casellato sono sostanzialmente molto intensi piacevoli e che mettono un po in come dire in fanno entrare veramente all'interno della pratica di come dire di approcciarsi alle alle interviste a delle a delle figure che hanno avuto un vissuto quelle quali è molto bello interagire molto bello ricercare e particolarmente intenso dialogare perché hanno storie differenti così come sono differenti le i ricercatori professori che hanno che hanno preso parte la scrittura di questi due testi e se si può andare un'occhiata semplicemente anche i nomi si vede una una preparazione multiculturale e quindi andiamo da una preparazione che è inserita nella nella storia necessariamente specifica contemporanea nella nella giurisprudenza c'è un riferimento un vasto riferimento perché le bibliografie la bibliografia annessa ai due testi e corposa fa capire veramente la preparazione molti come dire multidisciplinare è interessante anche che ci sono riferimenti al linguaggio politico la filosofia politica filosofia del linguaggio bisogna avere una certa preparazione anche etnografica fino alla glottologia e in questi saggi che sono che sono quindi riportati si si ritrova il le basi di partenza per chi è già come dire abituato a lavorare con le fonti orali e chi invece si si va approssimare con quell'utilizzo di queste e di queste fonti essenziali e ci ci fa anche un po immedesimare personalmente ho avuto a che fare appunto cominciò piacevolmente con con le interviste di militanti nello specifico degli anni 70 e ci fa medesimare e ci spiega anche quali sono i passaggi anche mentali dei ricercatori che ogni ricercatore fa per creare un progetto per portarlo avanti per ricercare le figure da intervistare che sono utili al proprio al proprio obiettivo di ricerca e anche la maniera il garbo la professionalità la capacità di ascoltare e di interagire con con i silenzi degli intervistati che è una delle cose più 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 complesse l'alfa e l'omega della della ricerca della ricerca e della e del dialogo con un testimone rappresenta il punto più alto il punto di partenza saper ascoltare il saper non interrompere e il saper comprendere i silenzi di di chi ci parla perché determina un'emozione che può essere può arrivare da una da una volontà di non parlare di non riuscire a parlare o semplicemente di momento emozionante che sia nella nel momento positivo di un'esperienza positiva o di un'esperienza traumatica ecco questi saggi riescono a spiegare con appunti diverse geografie differenti che vanno dall'america latina alla all'italia vanno dalla dall'approssimarsi a testimoni della della shoah oppure a persone che sono magari come un caso nel carcere di di poggio reale ad esempio sono tutte dei delle delle vite vissute delle storie anche dal basso che si inseriscono una storia molto più molto più ampia nella storia la s maiuscola oserei dire ecco quindi sarebbe interessante chiaramente partire da da questa da questa brevissima brevissima premessa e sentire anche poi i professori io ho già prima una primissima domanda innanzitutto come nascono quindi questi due questi due testi il primissimo della professoressa gribaudi come nasce questa esigenza che poi si si palesa chiaramente nella lettura di due testi questa esigenza di di andare a pubblicare il primo che è un libro appunto di di esperienza e di di interazione con una pratica già già portata a termine ecco mentre il secondo che buone pratiche per l'osteriorale che determina invece un un processo un procedimento anche legale legislativo più che legale ecco vorrei sentire chiaramente queste questi questi primi queste prime domande ma prima di allora vorrei anche sentire direi elisabetta per un un'introduzione e anche delle sue suggestioni ecco vediamo se chiaramente chi chi è presente anche nella nella tavola rotonda qualora volesse intervenire e insomma sarebbe piacevole anche sentire le domande che avete a disposizione così da 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 interrogare intervistare curiosamente anche i due i due i due professori ecco metterli dall'altra parte della della barricata stavolta e chissà se lo sto facendo bene tra l'altro ecco questa è un'altra domanda che magari va bene io direi a questo punto intervento e caricheremo la direzione c'è caricheremo la registrazione mi mi dispiace ci ho provato in tutti i modi e pensavo anche di esserci riuscita quasi quando massimiano ha finito ma vabbè mi in realtà dice che siamo live il zoom però non capisco se in realtà siamo veramente live comunque mi perdonerete immagino perché altrimenti mi allora dunque io come come accennavo prima sia la professoressa ribaudi che al professor casellato ho letto ho letto questi questi due volumi con con molta curiosità perché ovviamente perché appunto io ho sviluppato un metodo di ricerca che poi penso che appunto questo sia sia faccia parte un po' del del nostro lavoro della nostra formazione insomma cercare di elaborare un metodo che 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 sia conforme diciamo ai nostri anche sia sia i risultati che riusciamo ad ottenere dalla nostra ricerca sia sia le nostre ambizioni diciamo io ho sviluppato un metodo che appunto si è profondamente legato alla fonte archivistica alla fonte istituzionale e ho sempre evitato il confronto con il testimone forse anche un po' per diciamo anche un po' per paura di questo di questo confronto e quindi in realtà queste questi due testi mi sono stati diciamo sono state delle guide e hanno anche hanno anche posto qualche diciamo qualche qualche curiosità ecco diciamo e dal punto di vista proprio anche di storia generale diciamo che oltre questi oltre questi due due testi diciamo io posso dire che appunto la scorsa settimana qualche giorno fa in realtà ho avuto anche il ho anche avuto il piacere di di ascoltare la professoressa Gribaudi un intervento della professoressa Gribaudi durante la presentazione del nuovo del nuovo volume del professor Macri e anche quella e anche in quel diciamo in quella sede la professoressa Gribaudi ha parlato molto appunto del ruolo del testimone in determinate fasi fasi storiche del ruolo delle bibliografie delle biografie scusate e quindi questo mi ha portato ecco a fare delle considerazioni che appunto ora cercherò di porvi in modo più o meno ordinato e mi perdonerete anche anche il disordine di queste mie considerazioni dunque allora l'oralità e la fonte orale è ovviamente strettamente collegata al tempo presente perché ovviamente noi riusciamo ad avere questa fonte di perché perché la fonte orale è una fonte di prima mano e la fonte orale è probabilmente questo il motivo per cui ho sempre magari anche cercato di evitare il confronto con questo tipo di fonte appunto mette lo storico in una posizione diciamo di primo piano lo storico ha un ruolo attivo nella nella costruzione della fonte stessa perché noi non abbiamo un diciamo un pezzo di carta da dover da dover interrogare da 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 guardare da da diciamo da leggere da da leggere nel nel suo complesso nella sua nella sua diciamo nella sua sede di formazione ma abbiamo ovviamente una persona abbiamo lo storico ha davanti a sé una persona esattamente come lui e a cui deve porre delle domande con cui si trova ad empatizzare a ovviamente anche se magari quel quella fonte il testimone in quel caso magari non ha idee completamente diverse da quelle dello storico e quindi questo è un è un tema molto delicato e ovviamente capire e qui ovviamente entrano in gioco ovviamente anche di diversi saggi anche della della professoressa del saggio dell'introduzione del professor casellato ovviamente ovviamente chi 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 vuole approfondire ovviamente può approfondire con 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 i testi e diciamo questi sono 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 temi eh centrali però allo stesso tempo una cosa che che un saggio che mi ha molto colpito è stato ehm il saggio di ehm delisa malena sul ehm si intitola the sound of silence eh spunti per un dialogo attraverso i secoli ehm questo questo saggio eh pone il pone appunto diciamo il la contiguità diciamo no tra il il la fonte eh 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 la fonte orale e la testimonianza quindi la testimonianza di cui può fare diciamo la testimonianza di seconda mano e anche eh magari la ehm la trascrizione i silenzi che 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 comunque si trovano ehm che comunque si trovano nel nelle fonti eh nelle fonti eh nelle fonti a stampa eh nel momento in cui noi abbiamo ehm delle fonti a stampa eh ovviamente che 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 si che si vanno a inserire in un contesto sociale storico in cui non c'era una grande alfabetizzazione ovviamente quella fonte a stampa eh per 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 avere una una condivisione più ampia ovviamente doveva essere raccontata alla massa alle masse e quindi quel tipo di comunicazione che è che può essere una comunicazione politica una comunicazione sociale eh comunque ehm anche una comunicazione eh diciamo spirituale insomma eh comunque è un tipo di comunicazione eh un tipo di diciamo silenzio della fonte che noi possiamo andare a eh a recuperare a cercare di comprendere e questo appunto porta anche a eh diciamo paragonare questi silenzi ai silenzi archivistici diciamo questo questo è la mia eh questo questo diciamo è un una una riflessione che 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 volevo portare ovviamente dal sempre dal 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 mio punto di vista dal 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 punto di vista delle mie ricerche ehm volevo cercare di capire quanto effettivamente il 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 metodo di di interpretazione dei silenzi dei silenzi eh sia del testimone eh del testimone che è in grado di parlare sia del testimone che non è più in grado di parlare perché ovviamente magari è una è una fonte di di seconda mano diciamo eh diciamo eh di 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 un'altra epoca ehm se quell'interpretazione del silenzio ehm è effettivamente paragonabile all'interpretazione dei silenzi archivistici e in che modo questo tipo di interpretazione eh va eh va elaborata. ehm un altro tema che io volevo porre era eh la eh soggettività nel momento in cui noi abbiamo un confronto con eh con questo tipo di fonte con il testimone ovviamente abbiamo un racconto eh fortemente soggettivo e abbiamo un racconto che eh diventa ovviamente perché poi ehm perché soggettivo diventa una micro storia e quindi eh volevo appunto porre questo ehm questo 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 punto la micro storia eh ha eh ha importanza quando la inseriamo in un contesto generale perché la micro storia riesce a darci più sfaccettature di una storia 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 generale e quindi anche le le biografie riescono a restituirci questa complessità questa complicazione e questa complessità ovviamente riesce a dare più mh diciamo a a restituirci delle strutture diverse magari delle strutture di interpretazione diverse e ehm e quindi diciamo che ehm appunto queste soggettività possono ehm restituirci dei dei degli altri livelli di di analisi di di approfondimento delle delle narrazioni generali e ehm e quindi arricchire diciamo i nostri temi di riflessione. e ehm e quindi qui vorrei porre poi eh diciamo un tema un po' ancora più ehm un po' più importante e ehm e questo devo dire che mi è eh diciamo è un tema che eh avrei probabilmente una domanda che avrei fatto alla professoressa Grecia di Grembaudi eh ehm di ehm venerdì se ci fosse stato tempo e ehm la domanda è questa nel momento storico in cui eh ci troviamo quindi ehm in questa ovviamente un momento storico che eh non nasce non nasce ieri ma diciamo un momento storico che si è venuto definendo negli ultimi nei ultimi trent'anni ma che trova il suo compimento anche in questo nostro incontro in cui ci troviamo smaterializzati nei nostri computer anche se non riusciamo ad andare in streaming però se riuscissimo anche ad andare in streaming a questo punto saremmo anche smaterializzati in più posti contemporaneamente quindi in questo momento in cui c'è la smaterializzazione del corpo individuale la smaterializzazione delle masse la storia orale, il metodo della storia orale è effettivamente una chiave di conoscenza diventa forse l'unica chiave di conoscenza nel senso che io mi rendo conto che quando diciamo di conoscenza storica questo voglio di riflessione storica perché quando effettivamente parliamo si parla di del tempo che viviamo del tempo anche semplicemente recente o molto recente ovviamente si usano delle strutture dei temi, dei soggetti storici che non esistono più e che non esistono più effettivamente forse dei nuovi temi si possono elaborare tramite la discussione con effettivamente i protagonisti e i soggetti che vivono attivamente il tempo presente che non sono più i soggetti anche soltanto di 30 anni fa e in questo senso appunto possiamo anche diciamo ricordare ricordare Reggeni che viene ricordato anche alla fine di buone pratiche per la storia orale se non erro si, 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 assolutamente si non mi ricordavo quale dei due scusate in cui e Patrick Zacchi aggiungerei anche si, anche Patrick Zacchi Reggeni lo volevo volevo ricordarlo per appunto per lo studio che portava avanti quindi dell'utilizzo comunque di un tema che è appunto il tema dei sindacati per andare a cercare di comprendere una realtà una realtà comunque lontana e quindi allo stesso allo stesso modo questi queste chiavi di interpretazione che noi dobbiamo cercare di diciamo di recuperare per comprendere per descrivere criticamente diciamo il tempo che stiamo vivendo probabilmente appunto queste chiavi si possono si possono trovare nella discussione nel con gli attori del tempo del tempo presente non con delle chiavi che oggettivamente non funzionano più quindi vi passo vi passo la parola e prego chi vuole iniziare aggiungo giusto una postilla a quello che ha detto Elisabetta sulla complessità del dialogo con con figure che sono veramente parecchio distanti dal nostro dal nostro vissuto esperienziale e mi riferisco soprattutto a un saggio che ha che come dire che ho vissuto particolarmente ecco mettiamola così ossia gli incontri nove di Alessandra Dino con Gaspar e Spatuzza ecco lì è stato proprio uno degli estremi della difficoltà di uno storico orale al di là del fatto che si trovasse in un in un contesto molto particolare in più c'era la la richiesta diciamo richiesta da parte dell'intervistato di non di non registrare i dati che venivano appunto elaborati discursi dialogati nel nel faccia a faccia e c'è stata un'elaborazione a quattro mani successiva quindi questo per far comprendere ovviamente la complessità che un storico ha di fronte alla materia che viene che viene finalmente non regolamentata rapprasando una frase del professor casellato ma è principiata nel senso che ci sono i principi che sono stati come dire stilati affinché uno storico orale possa possa utilizzare delle buone maniere oltre che buone pratiche delle buone maniere per per affrontarsi insomma con questa realtà documentale a suo modo ecco detto questo lascio appunto la parola alla professoressa che è già smutato e prego le domande sono tantissime tutte molto interessanti ci aprono una discussione che ormai ci vede insomma da molti anni che c'è sulla storia orale e che però è sempre diciamo interessante ci pone sempre delle domande nuove come appunto capita questa sera allora vado un po' per ordine come nascono i due testi beh intanto è stata creata una collana di storia orale che non c'era e quindi che soprattutto appunto pone l'accento su questa metodologia che poi fra l'altro ci tengo a dire non è che è una metodologia cioè non è che chi fa storia orale non si cura di altra documentazione la storia orale è uno dei metodi è una delle fonti che noi utilizziamo e che anche molto spesso incrociamo con altre fonti perché la realtà è complessa è stato detto e quindi questa complessità della realtà e questi vari livelli della realtà si possono affrontare con diverse fonti con vari livelli di fonti ecco io che ho studiato la guerra ho studiato la guerra attraverso le fonti diciamo istituzionali i bombardieri che bombardavano le inchieste sulle stragi naziste ovviamente attraverso queste fonti mancava l'aspetto soggettivo ecco e per quel che riguarda qualsiasi momento qualsiasi momento della storia ma certamente un evento come quello della guerra così traumatico così eccezionale ha bisogno di essere ad esempio analizzato attraverso più livelli e se è possibile ecco se è possibile lo possiamo fare intervistando i soggetti oggi ad esempio è diventato molto difficile intervistare i soggetti della guerra sono pochi ecco quindi questo è e ci dà la soggettività ecco questo diciamo la metodologia della storia orale che forse più più di tutte le metodologie ci rende possibile penetrare nella soggettività ovviamente una soggettività raccontata e quindi quello che ha sempre detto anche Portelli che abbiamo detto in tanti la storia orale ci dà intanto nasce da un dialogo come è stato detto fra chi diciamo interviene chi fa le domande e come abbiamo detto anche nella presentazione del libro di Paolo Macri la storia contemporanea è sempre autobiografia ha scritto Paolo all'inizio del suo libro e quando ovviamente noi costruiamo la storia orale siamo dei soggetti anche noi segnati dalla nostra storia segnati dalle nostre esperienze segnati dalla disciplina dai nostri studi scientifici e quindi di questo dovremo tenere conto e di questo dovrà tenere conto chi leggerà le interviste che noi abbiamo fatto quindi questo è già un primo elemento che è un elemento di analisi un secondo elemento è ovviamente il fatto che quelli che raccontano la propria storia si vogliono raccontare e scelgono come raccontarsi e di questo anche dobbiamo ovviamente tenere presente scelgono di come raccontarsi e scelgono gli episodi da raccontarci perché qui c'è il grande discorso che è stato già fatto dei silenzi quali sono i silenzi come interpretiamo i silenzi e come siamo anche capaci di rispettare i silenzi perché noi ad esempio soprattutto ma normalmente quando intervistiamo delle persone che hanno subito dei traumi dobbiamo essere capaci di accettare i silenzi e forse anche questo io l'ho scritto proprio anche nel libro curato da Casellato noi stessi siamo in silenzio rispetto a certe cose non abbiamo il coraggio di porre domande o non le vogliamo porre per un rispetto del testimone e qui c'è un altro discorso molto importante che è il rapporto fra l'empatia e la distanza su questo si è molto discusso chi fa storia orale può anche essere preso da un rapporto identificativo fortissimo con il personaggio che sta intervistando quindi un rapporto di empatia molto forte quindi bisogna essere capaci di avere un rapporto empatico perché attraverso l'empatia si capiscono le cose sicuramente e questo l'abbiamo detto anche sempre nella presentazione del libro a cui accennato Elisabetta da Selleroli e però c'è anche ci deve essere anche la capacità di distanziarsi di vedere anche se vogliamo da lontano sul sì poi ecco quello che noi abbiamo costruito con la storia orale a un certo punto diventa fonte e quindi le future generazioni si troveranno di fronte a delle trascrizioni io sono una che ama le trascrizioni ad esempio ci sono alcuni che scelgono di non fare le trascrizioni io sì perché mi sembra che anche il linguaggio le parole siano importanti ovviamente chi leggerà queste fonti che già sta succedendo che si utilizzano delle fonti costruite da altri dovrà capire tutti questi livelli che noi abbiamo detto e si troverà di fronte come tutte le fonti fonte a un livello cioè non avrà ad esempio i cenni gli sguardi la figura no? non sempre perlomeno se la fonte è solo trascritta e però diventerà appunto questa diventerà una fonte come le altre di analisi come noi ecco questo io che ho studiato anche molto i documenti giudiziari nei documenti giudiziari noi abbiamo le fonti le testimonianze i testimoni e non solo i testimoni ma abbiamo ad esempio spesso le intercettazioni le intercettazioni ci danno delle specie di scene di vita insomma di momenti di vita quotidiana che sono molto vicini o forse ancora più forti per certi aspetti della storia orale per farci vedere certi elementi sul problema di oggi della smaterializzazione dei corpi della fonte orale per me invece è stato un momento di crisi un momento di fortissima crisi perché stavamo facendo una grande ricerca di storia urbana su Napoli centro e periferie quella sul centro la presentiamo venerdì prossimo a Napoli al Dipartimento di Scienze Sociali e quella sul centro più o meno l'avevamo conclusa insomma abbiamo fatto un grandissimo lavoro poi c'è sempre volendo c'è sempre da fare qualcosa di più sulla periferia ci stavamo lavorando San Giovanni a Teruccio è arrivata è arrivato il lockdown e allora ecco la storia orale come la stavamo facendo come io ero abituata a farla e voleva la presenza dei corpi la presenza dei corpi e la presenza dello spazio uno spazio che non fosse virtuale per me perlomeno e che fosse lo spazio della vita quotidiana lo spazio diciamo lo spazio sociale quindi non solo lo spazio della memoria e non avere più questo ci ha impedito ma mi ha impedito di continuare ad esempio stiamo ricominciando ma insomma di interrompere questo momento diciamo questo rapporto con il territorio attraverso la storia orale che appunto la storia orale è fatta di corpi che si incontrano di persone che si cambiano degli sguardi anche da vicino e che situano la loro il loro racconto nello spazio in uno spazio materiale ecco qui forse c'è come dire la mia età un approccio più come dire più antico ecco anche molto etnografico però certamente comunque i tempi ci pongono delle domande che sono delle domande importanti a cui dobbiamo rispondere e anche a proposito di questa smaterializzazione dei corpi certamente dal punto di vista scientifico diciamo della discussione forse questo ci ha portato cambiamenti ma anche novità positive ad esempio oggi possiamo discutere tutti quanti come non avremmo potuto in altri tempi ecco solo in presenza solo facendo lunghi viaggi eccetera quindi questo è sicuramente un aspetto positivo più problematico mi sembra appunto l'aspetto noi parliamo di storia dal basso quest'anno adesso si usa un po' di meno ma un tempo si è usata molto e per certi aspetti io penso che sia ancora valido questo e ovviamente una storia dal basso con il computer è più difficile molto più difficile quindi questo ovviamente ci pone dei problemi speriamo di poter tornare in presenza al più presto in tutti gli spazi sociali mi sembra che avevo ancora delle ma casomai riprendo poi la parola dopo Alessandro grazie grazie comunque voglio ringraziarmi di avermi invitato a discutere questo libro che fra l'altro ecco ricordo c'è la storia orale ma ci sono anche appunto i testimoni nei processi e soprattutto le testimonianze nei momenti di cambiamenti e di crisi appunto come in Sudafrica in America Latina eccetera sì ma in Italia infatti volevo in realtà appunto uno dei temi che non ho trattato sono anche le intercettazioni le intercettazioni le intercettazioni nei carceri nelle carceri un tema per chi fa ricerca appunto sugli anni settanta sul terrorismo sull'antiterrorismo per esempio sono le trascrizioni di queste intercettazioni con i i nastri i nastri scomparsi quindi chi effettivamente produce quelle quelle trascrizioni quindi anche capire il livello ovviamente di istruzione di chi ha prodotto quelle trascrizioni che ovviamente appunto alcune parole non vengono ben comprese vengono trascritte male eccetera quindi c'è tutto questo tema che ovviamente è un tema molto complesso non l'avevo non l'avevo inserito però appunto ovviamente è un tema molto molto importante di discussione comunque passo la parola al professor Casellato per il suo intervento grazie anch'io ringrazio voi di questo invito mi fa piacere così presentare il libro che ho curato ma ancora di più mi fa piacere spezzare con voi il pane della storia orale nel senso che mi rendo conto che c'è ancora un po' di diffidenza nei confronti di questa metodologia che pure in Italia ha 70 anni di storia insomma alle spalle e che rientra ormai da allora da quando è stato inventato il magnetofono che ha consentito di registrare le voci quindi le interviste i colloqui rientra all'interno delle fonti possibili che i bravi storici in formazione dovrebbero conoscere e praticare e al pari di tutte le altre fonti che sono a disposizione Lucien Fevre nelle sue lezioni di metodo storico già nell'82 diceva che tutto può essere fonte e dove non ci sono fonti scritte fonti d'archivio il bravo storico deve ricorrere a tutto ciò che ha a disposizione per produrre il suo miele il miele della sua conoscenza le fonti materiali ma anche le fonti le fonti orali certo quello che guida in particolare noi che siamo all'interno di questa comunità scientifica la storia la storiografia è il metodo è il metodo di analisi diciamo quel metodo critico e filologico la critica della fonte la critica del documento come diceva Elisabetta poco fa porsi le domande di fronte a una fonte orale trascritta come un'intercettazione su chi ha registrato e chi è stato registrato quando che filtri ci sono stati poi nel percorso di trascrizione che è selettivo e poi che cosa è stato conservato e che cosa no se e perché sia stato conservato il documento originale che è quello sonoro ecco diciamo il metodo è lo stesso ma questa metodologia che abbiamo definito storia orale ha delle particolarità che sono state richiamate da Gabriella Gribaudi quindi ha al centro il tema della soggettività anzi dell'intersoggettività perché è una fonte che lo storico la storica non trovano già fatta in un archivio ma devono produrla vogliono produrla nel corso della loro ricerca perché ne hanno bisogno perché la fonte orale consente di indagare degli aspetti del passato che altrimenti sono non attingibili perché non hanno lasciato altre fonti oppure perché le domande che ci guidano vorrebbero sapere qualcosa di diverso rispetto a ciò che le fonti depositate contengono finché abbiamo la possibilità di incontrare delle persone che hanno vissuto determinate fasi determinati eventi determinati processi storici e abbiamo la possibilità di di trasformarle in testimoni perché siamo noi che li trasformiamo in testimoni chiedendo loro di raccontare di raccontare ciò che hanno visto ciò che hanno fatto ciò che hanno vissuto e quindi anche le impressioni le sensazioni i sentimenti ecco finché questo è possibile io direi facciamolo è come voler guardare con un occhio solo e perché non aprire anche l'altro si vedono le cose più rotonde in prospettiva si vedono meglio le cose aprendo entrambi gli occhi e questo insomma è un invito così che faccio anche per sostenere l'utilità ecco dei libri di cui stiamo parlando che sono dei libri diciamo così introduttivi a questa metodologia in particolare quello che ho curato io e parto dalla prima domanda di Massimiliano Pinna come nasce questo libro Buone Pratiche per la Storia Orale nasce da un percorso molto lungo interno all'Associazione Italiana di Storia Orale che nel 2014 è stata investita di alcuni quesiti da parte di soci e di colleghi colleghe che avevano avuto dei problemi di ordine di ordine civile e di ordine giudiziario a seguito di alcune ricerche che avevano pubblicato basate su su testimonianze su testimonianze orali e a seguito della pubblicazione delle loro ricerche erano stati fatti oggetto di azioni giudiziarie o di risarcimento d'anni e quindi ci hanno chiesto se esistesse in Italia come in altri paesi qualcosa di simile a un testo di Buone Pratiche che spieghi e in qualche modo formalizzi questa nostra metodologia in modo tale da poter dimostrare anche ai profani anche ai magistrati come si fa il nostro mestiere quali sono le nostre pratiche quali sono le procedure diciamo consolidate acquisite all'interno della comunità scientifica cioè dimostrare di aver fatto bene il proprio lavoro ecco noi non le avevamo queste buone pratiche e abbiamo ritenuto doveroso in quanto associazione di storia orale dare una risposta a questi bisogni nuovi che negli ultimi anni si stavano intensificando e quindi ci abbiamo lavorato abbiamo dovuto da un lato ricapitolare ecco una esperienza accumulata nel corso di diverse generazioni all'interno della nostra comunità non è che abbiamo inventato niente abbiamo letto e riletto i classici e abbiamo ricapitolato appunto il modo in cui la procedura di produzione di conservazione di interpretazione di pubblicazione delle nostre fonti è stata appunto consolidata e abbiamo dovuto però anche incrociare tutto ciò con il quadro giuridico esistente che in qualche modo ci vincola ci sono dei punti fermi che tutelano i diritti delle persone non solo il diritto costituzionalmente garantito della ricerca ma anche i diritti soggettivi di altre persone che dobbiamo tenere presenti avere presenti quando facciamo il nostro lavoro ecco tutto ciò ha prodotto già nel 2015 un documento Buone Pratiche per la Storia Orale che è diventato un testo ed è stato corredato da delle relazioni in qualche modo esemplificative applicative poi però siccome il mondo cambia molto rapidamente l'avete detto voi stessi quanto siamo sopravanzati dalle cose che ci impongono di cercare chiavi diverse beh insomma è stato introdotto nel 2018 un regolamento europeo sulla tutela dei dati personali che ci ha richiesto di rivedere quel testo per assicurarci che tutto ciò che avevamo scritto fosse in linea con questa nuova normativa sostanzialmente sì ma è stato necessario aggiungere qualche anzi formalizzare meglio alcuni passaggi che precedentemente lasciavamo in qualche modo impliciti e poi siamo stati molto sollecitati dalla svolta digitale ne siamo stati travolti due anni fa in occasione dello scopio della pandemia della scoperta del lavoro a distanza della ricerca a distanza e anche delle interviste a distanza ma questo in qualche modo ci ha reso più consapevoli di un processo che era già avanzato e che stava portando a grandi passi anche la storia orale nella svolta digitale che non è solo appunto le interviste a distanza ma è la possibilità è il fatto che per esempio non usiamo più i magnetofoni i registratori analogici per registrare le nostre interviste ma le registriamo direttamente in file e questi file hanno molti elementi di come dire versatilità ma anche delle complicazioni e poi questi questi file non sappiamo dove conservarli a volte a qualcuno è venuta anche la tentazione di pubblicare integralmente senza riflessione senza filtri senza accortezze le interviste fatte in rete per un'idea di trasparenza di così democrazia anche della scienza con il rischio appunto di creare dei problemi a delle persone a quelle persone non tanto a quelle che parlavano ma magari a delle altre persone che nelle interviste venivano citate venivano raccontate in un certo modo ecco insomma complicazioni legate alla svolta digitale opportunità anche opportunità faccio un esempio per riprendere un'altra delle questioni di Elisabetta se la Roli poi è l'ultima dopo Casomai appunto se vorrete riprenderemo la cosa perché i punti che mi ero segnato sono moltissimi e non riesco ad esaurirli ma almeno su una cosa che Elisabetta ha detto e che mi sembrava insomma bella stimolante quando si è riferita al saggio di Adelisa Malena una storica dell'età moderna early modern che studia il dissenso religioso nel 500 nel 600 e lo fa fatalmente attraverso fonti d'archivio fonti d'archivio che però come le intercettazioni di cui Elisabetta parlava non sono altro che delle fonti orali trascritte i verbali dei processi oppure le le visioni e i racconti mistici dei mistici che raccontavano in preda così al al furore di una visione o di un di un trasporto religioso raccontavano di sé e i loro mondi interiori e qualcuno trascriveva ecco quindi negli archivi istituzionali molta parte delle fonti scritte che ci sono sono trascrizioni di fonti orali e alcune di queste contengono anche quelle che potremmo definire la oralità d'archivio perché Adelisa Malena fa questo cioè cerca di scovare valorizzare in qualche modo quasi restituire la dimensione sonora originale a quei lacerti di fonti poi però c'è un'altra cosa che oggi dopo 70 anni dalle prime campagne di raccolta di testimonianze orali esistono degli archivi orali cioè è un altro tipo di oralità d'archivio è una oralità sonora che compone degli archivi sonori con le registrazioni delle interviste ma anche delle musico e dei canti ad esempio dei canti sociali di persone di gruppi sociali che oggi noi nel nostro presente non riusciremo mai a intervistare o ad ascoltare perché non ci sono più perché sono passati troppi anni e questa è una bella una bella sfida cioè abbiamo a che fare con dei documenti che come bravi storici e storiche dobbiamo tenere in considerazione ma proprio perché ci restituiscono quelle visioni quei vissuti dal basso di cui molto spesso relativamente a la prima guerra mondiale l'emigrazione il fascismo l'antifascismo la seconda guerra mondiale e la resistenza non riusciremo più a trovare un testimone in grado di parlarcene e magari non riusciamo a trovare abbastanza fonti scritte soggettive diaristiche autobiografiche che in qualche modo ci potrebbero soccorrere quindi quello è come dire un'altra oralità d'archivio che con la svolta digitale ultima cosa che dico noi siamo in grado di riportare a nuova vita cioè di riportare e rivalorizzare lo specifico di queste fonti che è la dimensione sonora il digitale sta aprendo un nuovo interesse nel nostro campo nelle nostre fonti da parte di soggetti che non sono solo gli storici professionali ma sono gli artisti i produttori autori di audiosaggi i professionisti della radio che attingono a questi documenti ridando loro una nuova vita sonora udibile che può essere diffusa attraverso i canali digitali attraverso la tecnologia podcast tutto un mondo nuovo effettivamente ma è bellissimo bellissimo sì volevo dire una piccola cosa su questo sì ha ragione Alessandro anche io mi sono misurata con questa dimensione e noi abbiamo fatto un archivio si chiama archivio multimediale delle memorie lo potete trovare su www.memoriedalterritorio.it e qui lì c'è e ci sono due percorsi anzi tre perché c'è anche bradisismo insomma due percorsi uno sulla guerra e uno sui terremoti e lì si vede la differenza fra il digitale e l'analogico perché tutta la parte di studi di ricerca sulla guerra soprattutto fatta da me ma non solo da me anche da nella ricerca che facemmo che cominciò negli anni 90 quindi a fine anni 90 anzi prima 98 99 eccetera tutta fatta con l'analogico quindi poi per metterla rimetterla poi con ovviamente i permessi di chi di chi era stato intervistato che già ci avevano dato metterla in rete lì è stato complesso perché bisognava trasformarle in digitale invece tutto il lavoro sui terremoti già fatto diciamo negli anni 2000 successivamente il primo convegno che facemmo sulla memoria delle catastrofi l'abbiamo fatto con l'Aiso io ero presidente dell'Aiso qui a Napoli nel 2010 e lì tutta la ricerca comincia con il digitale e quindi si riversa facilmente nell'archivio e quindi voi lo potete trovare questo sarà questo è un archivio che spero rimanga e quindi si può trovare quindi questo è sicuramente una cosa vera importante quella che dice Alessandro e che cambia profondamente diciamo il lavoro anche anche la difficoltà in qualche modo del lavoro poi ma sono brevemente non voglio occupare io troppo spazio mi rendo conto di non aver risposto alla domanda di Massimiliano Pinna su come è nato il volume testimonianze e testimoni è nato anche questo come un un convegno legato all'Aiso e anche al mio dipartimento di scienze sociali ed è si diciamo perché nasce perché ancora adesso c'è una discussione sempre generica sul sul tema della memoria e della testimonianza quindi la memoria è tutto c'è una confusione fra i vari tipi di memoria la memoria pubblica ad esempio si parla sempre di memoria collettiva quando si parla invece di memoria costruita ad esempio istituzionalmente da varie istituzioni fra l'altro negli stati nelle nazioni e si parla appunto di memoria pubblica che è ancora un'altra cosa allora e poi si parla di testimoni ovviamente i testimoni del tempo i testimoni quello che noi volevamo cercare di fare era di invece di lavorare e fare appunto un convegno in cui tutte queste varie categorie fossero come dire studiate analizzate ridimensionate se ne studiassero anche le differenze ecco l'utilizzo concreto di queste di queste categorie ed è qui è nato poi appunto testimonianze e testimoni che vede fra l'altro come è stato detto l'intervento di vari studiosi provenienti da discipline ed esperienze diverse ecco per ultimo sì forse anche quello a cui non ho risposto è la vicinanza con la microstoria beh lì ci sono anche delle differenze la biografia non è esattamente la microstoria quella che la comune è la microstoria è che la biografia ci avvicina alla complessità del reale tutti appunto i suoi vari livelli la biografia non è un'astrazione come è stato detto appunto venerdì c'era nel libro di Macri c'era la citazione di una bellissima frase di Köstler Köstler nella guerra appunto di Spagna dove lui è finito in prigione quando pensa che è stato condannato a morte poi riuscirà a uscirne ma insomma non lo sa ancora dice l'uomo adesso l'individuo diciamo è uomo e l'uomo è l'uomo e la realtà e l'umanità è un'astrazione ecco questo adesso la frase mi è venuta meglio ecco ha reso l'idea l'uomo è realtà e l'umanità è astrazione ecco questo mi sembra una frase significativa appunto l'uomo è realtà e attraverso lo studio delle biografie e quindi la storia orale ci rende possibile fra l'altro arrivare a biografie di vario tipo no di appunto biografie di gente che non avrebbe avuto la possibilità di raccontarsi si l'ha detto bene Alessandro noi raccogliamo storie riusciamo a immetterle nella storia dare loro voce come si diceva ma questo rimane importante metterle nella storia e arricchire la storia di storie di esperienze che altrimenti non ci sarebbero ecco poi appunto nelle domande la gente dice sempre grande storia è tutta storia è la stessa cosa no solo sono vari livelli insomma di approfondimento direi magari più direi storia generale storia particolare magari potremmo fare questo tipo di 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 specifica invece di grande storie piccole storie non lo so insomma si può il dialogo c'è una biografia fa parte della grande storia e entra anche in una storia generale nel nel mio libro su la memoria di traumi e la storia ho citato diciamo una visione i i dipinti di Boccioni no Boccioni ha fatto dei quadri in cui la persona vive nell'ambiente cioè si mischia all'ambiente che c'è che c'è dietro di lui questo è il rapporto fra l'individuo e quella che noi chiamiamo la storia generale scusate io prego ricollegandomi alla questione diciamo appunto dell'archivio noi sempre in questo ciclo però nella sessione invernale a gennaio discuteremo anche di memoria dal cratere sempre nella nella collana di storia orale di edit press quindi poi ne discuteremo più avanti ovviamente non in questa serie super l'avevo preparato anch'io visto che parliamo di bradisismo insomma dell'Irpinia nello specifico poi un'altra cosa che volevo volevo dire volevo porre anche un altro un altro esempio diciamo ecco di come ci si ed è per questo che secondo me è importante anche se è ovvio diciamo che è importante diciamo sviluppare questo tipo di ricerca diciamo il dialogo con il testimone anche se anche se ci si occupa magari ecco di di altro di altro tipo di ricerche per complicare no? come diceva il professor Casellato prima per per guardare anche con con l'altro occhio però effettivamente diciamo che questo questo tipo di le tematiche che vengono affrontate nei saggi di questi due volumi servono anche per ovviamente per per avere delle chiavi di interpretazione anche di appunto dei documenti che noi troviamo delle trascrizioni di tutti i tipi di trascrizione io per esempio stavo pensando ai alla storia dei partiti ai alla storia politica quando noi andiamo a vedere la storia dei partiti noi possiamo serenamente fare una ricerca bibliografica quindi andare a vedere i giornali di partito le riviste di partito quindi le le trascrizioni del dei discorsi congressi consigli diciamo i documenti conclusivi dei vari lavori diciamo di congresso allo stesso tempo se si va in un archivio nell'archivio ovviamente quando ovviamente qua stiamo sempre parlando al passato perché ovviamente non c'è più non ci sono più i partiti i grandi partiti di massa quindi ovviamente qua potremmo parlare ancora ora per ore del presente della materializzazione eccetera però quando andiamo nell'archivio ovviamente noi ci ci dobbiamo interfacciare con il dattilo scritto il dattilo scritto quasi sempre è tutt'altra cosa del testo del testo che viene riportato nella rivista faccio un esempio i dattilo scritti dei consigli dei congressi dell'ADC e la versione riportata magari nella discussione o comunque nelle varie riviste delle edizioni Cinquelune ovviamente sono quasi totalmente tutt'altra cosa alcune volte non sono neanche totalmente fedeli al dattilo scritto perché un po' per questione di spazio un po' per questione di divulgazione ovviamente e quindi lì c'è appunto queste linee guida possono essere appunto utili anche per questo tipo di interpretazione perché appunto non è ovviamente va tutto quanto contestualizzato in quella ricostruzione di suoni di cui parlavamo prima quindi questo io anche per questo ho trovato molto 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 interessante questo questo tipo di lavoro non soltanto ovviamente per eventualmente un giorno fare il procedere anch'io con questo tipo di ricerca attiva ma anche nel mio tipo di ricerca passiva ecco ripasso la parola Massimiliano sì volevo solo aggiungere che effettivamente quando vai a indagare fisicamente negli archivi vai a fare delle domande alla documentazione ecco uguale con la lo stile orale se non fai le domande che non sono state fatte quella memoria è persa quel patrimonio è irremediabilmente mancante purtroppo mi è capitato durante la mia ricerca di tesi dottorato di richiamare l'attenzione e telefonare anche fisicamente alle persone dopo 40 anni magari far domande o la richiesta di un'intervista non credono ed è curiosa questa cosa di essere così importanti di raccontare magari un frammento della loro vita quindi è anche piacevole riaprirgli veramente un ricordo che per loro era una cosa distante e che magari non pensano di aver fatto parte di una storia ecco che la loro storia possa essere talmente interessante che un ragazzo di chissà quanti anni dopo 40 anni che ti richiede esattamente questi passaggi ripeto non deve essere per forza un trauma ma anche in un discorso positivo una richiesta di un'intervista positiva è molto particolare ecco e sul discorso dell'empatia è la meraviglia di questa di questa materia ecco questa è la cosa la cosa curiosa è che anche le interconnessioni che si creano con l'intervistato e anche quello che il sé vuole apparire non solo l'intervistato nei nostri confronti ma anche noi c'è uno scambio un balletto tra le due figure anche noi vogliamo apparire in una certa maniera come dire istruiti sappiamo di quella tematica che andiamo a chiedere e magari io mi arrabbio con me stesso certo potremmo fare una domanda più intelligente o potevo chiedere questo questo è il bello di questa materia meravigliosa ecco quindi vi ringrazio per la vostra passione perché insomma è bello piacevole poterla condividere spezzare il pane ecco come ha detto il professor Casellato insomma bello è una bella tavola ecco ritornando a quello che ci rischia oggi non saprei se ci fossero delle domande sarebbe molto molto bello se avete altri spunti professori prego intervenite a piacere come si dice vediamo se c'è qualche domanda vediamo poi noi andremo avanti per ore ma non è sì chiaro dovremo trovarci io nel frattempo intanto mentre la professoressa Gribodi parlava ho inviato nel qua su Zoom il sito archivio no memoriadalterritorio.it ecco così che diamo anche una importanza ecco a queste cose qua e trovate anche le interviste di Gabriele Moscarito quelle che poi cita nel libro perfetto grazie infatti è molto molto utile è utile a chiunque insomma ecco non solo agli storici ma anche altre competenze varie e variegate con una oltre per curiosità personale abbiamo scoperto vedendoli i cliccaggi insomma non so come si che sono moltissimi moltissimi che entrano nel sito clic dall'America ad esempio degli Stati Uniti chi sono sono gli emigranti certo questo è un aspetto interessante di questo tipo di Irpinia quindi sono moltissimi emigranti che entrano e vogliono vedere appunto la storia dei loro paesi scusate assolutamente sì dicevo volevo dire ancora una cosa mi sono trovata moltissimo vedevo che anche Alessandro facevasi così con la testa con la cosa che dicevi adesso prima Massimiliano quante volte anche a me è successo quando ho rivisto le trascrizioni ho detto mamma mia l'ho fatto cioè non ho fatto delle domande importanti e soprattutto e questo è quello che dice anche molto bene nel libro testimonianze e testimoni lo studioso ebreo israeliano e soprattutto ho interrotto ad esempio dei discorsi o dei racconti arrivando facendo una domanda che non che ha portato via diciamo il test questo questo succede quindi questa è una delle cose a cui bisogna fare molta attenzione uno dei primi insegnamenti che si fanno agli studenti dopodiché il problema la capacità di ascolto spesso non si si affina però ok non si è vero serve anche fuori dalla storia ecco la capacità di ascolto visti questi tempi un po' concitati assolutamente si questo va da sé chiaro però giusto perché così si devo essere sincera la storia orale potrebbe essere utile tutti questi scusate mi vengono delle parolacce questi deficienti che fanno i talk show dovrebbero imparare ecco la storia orale insegna a rispettare i testimoni a fare delle domande appropriate scusate eccetera rispettare la memoria anche visti visti gli accostamenti di quest'ultimo periodo su cose veramente aberranti con con delle mancanze di insomma di come dire di libertà un po' un po' un po' particolari ecco mettiamola così quindi sì sono due testi belli utilizzerei proprio il termine sincero perché cioè si vede la difficoltà che ha avuto ogni autore insomma che palesa anche le proprie le proprie mancanze come diceva appunto la professoressa a cuore aperto anche perché giusto così rendersi conto non dei propri limiti però anche riuscire a trovare una maniera per superarla così come si sta cercando di superare questo momento del del covid-19 e in buone pratiche per la storia orale è talmente attuale che giustamente c'è anche una maniera per trovare un'evoluzione in questa in questo periodo qua ecco sicuramente si riuscirà a trovare delle pratiche anche in questa in questa evoluzione bene io da sui su facebook né sulla pagina dell'Aiso né su quella di Ed Express né sulla nostra ci sono domande quindi se qualcuno qui tra i vari partecipanti ha qualche domanda e altrimenti ripasserei la parola di nuovo al professor casellato se vuole aggiungere qualcos'altro tutti timidi molto timidi c'è una connessione audio forse forse connessione basta sì io posso aggiungere qualcosa cerco di connettere anche col video buonasera sono Alessandro Porra sono un dottorando dell'Università di Cagliari appunto ho scelto come metodologia proprio la storia orale perché io mi occupo della comunità ebraica di Istanbul nel rapporto con la nostalgia eccetera quindi ovviamente ho usato la storia orale perché è stato lo strumento metodologico più appropriato e quindi volevo dare un piccolo così contributo nel senso che si parlava anche del futuro della storia orale soprattutto in una situazione come quella che viviamo oggi del covid quando a volte la storia orale non è diciamo i nostri diciamo coloro che noi intervistiamo magari vivono delle situazioni anche politiche che sono abbastanza diciamo un po' borderline un po' pericolose oggi in Turchia parlare anche della famiglia dei ricordi è un argomento che può realmente creare problemi perché poi alla fine è sempre tutto politica quando tu chiedi sei più nostalgico rispetto al periodo che malista o quello magari un po' più lontano ovviamente stai dando un giudizio comunque politico per cui sì appunto come diceva appunto Massimiliano sicuramente è anche avete detto nuovi strumenti per le situazioni appunto di emergenza quindi io ho trovato moltissima difficoltà in questo frangente a continuare la mia ricerca sul campo perché tantissime persone sì appunto mi sono stato detto utilizza Zoom utilizza Team utilizza Skype utilizza questo utilizza l'altro ma in realtà erano tutti molto disposti a incontrarmi ma io non potevo andare fisicamente in Istanbul per cui la mia ricerca ha avuto dei grossi problemi quindi sicuramente la tecnologia ci aiuta però in determinate condizioni rimane comunque l'impossibilità di trovarsi a faccia a faccia rimane un ostacolo difficilmente sframmontabile quindi io volevo dare questo piccolo diciamo contributo diciamo che ho diciamo ho maturato attraverso la mia ricerca attuale che comunque sto portando continuo a portare avanti grazie grazie a te vediamo se ci sono altre domande tutto tace mentre vorrei effettivamente dire che la stessa problematica ho incontrato la stessa problematica di Alessandro Corra ho incontrato effettivamente durante questo lockdown però per ovviare anzi invito a chi ci ascolta soprattutto magari degli studiosi più giovani lancio un po' questa sfida di provare a fare un test un'intervista magari in un campo più limitato e più conosciuto ho fatto la stessa identica cosa parlando con mia nonna 90 anni lockdown ci sentiamo ci teniamo compagnia e esattamente è stata la stessa identica difficoltà perché la tecnologia insomma lei non la utilizza e precisamente è va bene che ci si conosce però anche lì le tecniche le tecniche da portare avanti sono state le stesse che ho ritrovato logicamente nei test quindi per quanto sia complesso insomma si deve per forza trovare una soluzione però diverso la Turchia in effetti da un paesino dentro la terra della Sardegna logicamente sì soprattutto diciamo che non c'è una ho visto che in questi giorni va di moda il semi quindi diciamo in Sardegna non siete in un regime semi dittatoriale diciamo perché ora va di moda questo semi presidenziale che sarebbe pare che andiamo incontro a una svolta semi presidenziale che non si sa bene cosa voglia dire diciamo in in questi termini al momento vabbè quindi io passerei dato che non ci sono altri interventi credo che non ci siano e penso che passerei la parola al professor Casellato Alice ho visto che ha acceso la videocamera magari vuole intervenire oppure vado avanti io no no vado avanti no dunque a me pare che questo invito che Massimiliano ha fatto anche ha un uso in qualche modo della dell'intervista come esercizio provate provate a farla a fare un'intervista e a ragionare attorno alla fonte che producete a me pare sia un abbia un'utilità straordinaria io credo che uno dei contributi che ha dato la storia orale alla storiografia generale oltre al suo specifico è stato rendere più consapevoli gli storici e le storiche che lavorano su documenti d'archivio della complessità delle loro fonti per le ragioni insomma che abbiamo detto un po' prima che anche Elisabetta ha richiamato non è che le fonti orali siano scivolose opache complesse e le fonti d'archivio invece aprono immediatamente il rapporto diretto con la realtà con la verità non è così e essere consapevoli che molte fonti d'archivio sono delle trascrizioni di testimonianze che molto spesso non hanno neanche un autore che le firma è l'istituzione che le produce ma l'istituzione non è vera non è reale reali sono i funzionari sono i singoli che con la loro soggettività è inevitabile che ci sia questa filtrano i resoconti che fanno della realtà di cui scrivono insomma ecco penso che fare un piccolo esercizio di storia orale allarghi la mente la consapevolezza anche a chi si muove prevalentemente attraverso altre fonti per esempio prendendo atto che nelle organizzazioni complesse strutturate come i partiti come i sindacati come le aziende come le istituzioni ciò che rimane averbale non è quasi mai la verità è un aggiustamento di processi di discussioni di conflitti che si sono svolti fuori dalle sedi istituzionali in cui precipitano le decisioni in un verbale e quindi di questo appunto è bene essere essere consapevoli ed è bene magari appunto esplorare anche lateralmente la dimensione politica in particolare per la storia politica del novecento la storia dei partiti di massa insomma come si fa a farla solo sulla base dei documenti conservati nelle segreterie dei partiti a Roma ma scherziamo cioè lì si vede si vedono alcune cose molto poche ma appunto il vissuto ciò che localmente ciò che gli individui ciò che i generi ciò che le generazioni ciò che i gruppi sociali hanno vissuto sotto il grande ombrello dei partiti politici di massa lo perdiamo ed è un peccato ed è veramente un peccato e ultima cosa Massimiliano Pinna ha detto riaprire sì noi quando andiamo a sollecitare a provocare un testimone a creare un testimone a provocare la sua memoria facciamo un'azione cioè provochiamo un effetto che molto spesso è positivo molto spesso è di piacere cioè le persone anche quando diventano anziane e hanno una vita densa e sanno di aver vissuto delle pagine importanti della storia magari da posizioni laterali da posizioni però ecco il fatto di poterne parlare di poter lasciare una testimonianza di trovare degli occhi e delle orecchie attente curiose rispettose è bello è bello anche per loro raccontare ed è bello per noi ascoltare c'è una dimensione legata proprio al piacere che si si ha quando si si pratica l'intervista cioè si incontrano due persone speriamo sempre due corpi in una stessa stanza ci sono dei convenevoli c'è una dimensione proprio di gusto di piacere della ricerca è la stessa lo stesso piacere che si ha nella ricerca d'archivio quando si trovano dei documenti importanti quando si capisce una cosa quando a me capita si incontra una vita a me questo dà un piacere enorme quando faccio le ricerche d'archivio quando ho la sensazione di incontrare una persona a me piace questo mi viene più facile quindi farlo attraverso le fonti orali ma insomma il nostro nostro lavoro la nostra ricerca contiene insomma insieme alla fatica alla frustrazione ai costi anche questa dimensione proprio del piacere della ricerca secondo me la storia orale in qualche modo amplifica tutto ciò io volevo dire una cosa poi magari ripasso la parola a Massimiliano che forse ci sono più temi più cose che vuole raggiungere lui io volevo dire che appunto sì diciamo che uno dei temi che io avevo che avevo affrontato all'inizio appunto la paura magari di interfacciarsi personalmente con il testimone magari forse è proprio questo proprio la mia natura io sono di natura timida e quindi magari ho già di mio diciamo difficoltà a interfacciarmi con 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 le persone magari questo appunto mi crea già un filtro che è difficile da da abbattere e e comunque appunto sì il questo questo tipo diciamo diciamo di di discorso che io volevo volevo proporre in questo nuovo ciclo di seminari per questo io ho voluto appunto aprire il ciclo di seminari con 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 la professoressa Gribadio e il professor Casellato sul tema della metodologia e appunto questo che è ovvio che questo tipo di questo tipo di lavori effettivamente pone tanti temi a chi fa ricerca anche d'archivio soprattutto d'archivio secondo me perché io sono una una fanatica della metodologia penso che la maggior parte delle persone che sono connessi qui lo sanno lo sappiano già ed è importante sapere come come raffrontarsi con il documento io per esempio lavoro con con i documenti istituzionali ma le istituzioni sono fatte dalle persone sono fatte dagli individui e non soltanto le istituzioni sono fatte da da tanti tipi di persone da persone che hanno una formazione diversa mi ricordo che una volta facendo facendo ricerca sulle carte dei erano carte dei carabinieri erano carte dei carabinieri ed era un un'informativa diciamo arrivata ai carabinieri io mi occupo dei rapporti diciamo tra i diversi livelli dei servizi diciamo dell'antiterrorismo e in queste informative ovviamente ci sono dei livelli dei passaggi di nel momento in cui una voce passa da persona a persona c'è sempre la modifica di quella di quell'informazione quindi si possono vedere queste cose ma a parte questo si vedono anche le informazioni come vengono riportate le informazioni personali come vengono riportate perché qui ovviamente parliamo di carte di polizia parliamo di inchieste parliamo di appunto di inchieste sul campo e e lì vediamo anche la sensibilità del poliziotto che recupera quell'informazione la scrive e la invia al superiore il superiore come la come la rimaneggia con l'informazione e io mi ricordo di aver pensato a un certo punto a questi funzionari bisognerebbe bisognerebbe obbligare bisognerebbe obbligarli a leggere delle poesie perché proprio Elisabetta deve assolutamente intervistarne qualcuno ma non sto scherzando io ho conosciuto come era un mio studente un poliziotto dell'antiterrorismo che aveva lasciato il servizio era in pensione come molti insomma pensionati si scrive una storia lui con un interesse e una passione particolare beh a latere dell'esame mi ha raccontato di sé ha raccontato la sua esperienza professionale come l'ha affinata con grande sapienza e cultura e riconoscendosi in tutta una serie di appunto indicazioni metodologiche legate alla storia orale per riuscire a a entrare dentro diciamo così la mentalità ma anche la cultura politica dei suoi avversari che diventavano interlocutori e che lui doveva convincere a diventare dei collaboratori di giustizia ecco a me ha aperto un mondo e questo non credo che lo trovi da altre parti se non intervistando alcune di queste persone che siano disponibili con tutte le cautele possibili a raccontarlo io la invito insomma a prendere sul serio questa no ma questo no questo lo farò però è per per dire il livello ovviamente di di cura che bisogna avere anche perché ovviamente una cosa fondamentale è che ovviamente nei documenti non si trova nei documenti ufficiali nei documenti istituzionali non è che si trovi si trovi la verità non si trova scritta da nessuna parte la verità bisogna sempre interpretare i documenti non si trova mai la famosa pistola fumante non si trovano diciamo questa magari questa è un'idealizzazione del documento del feticcio del documento che magari possono avere o può avere o chi inizia la ricerca piena di speranze di speranze oppure forse forse i giornalisti possono avere questa idea del documento ovviamente noi dobbiamo stare lì a interpretare il documento a interrogare il documento e appunto a interpretarne soprattutto i silenzi e quindi qui entra in gioco appunto come ponevo prima diciamo il metodo dell'interpretazione del silenzio quindi anche confrontarsi confrontarci nelle nostre diverse metodologie su come interpretiamo i silenzi e quindi qui ripasso la parola a Massimiliano vorrei solo dire fare una citazione brevissima tre righe in merito alla verità visto che non abbiamo parlato è stata nominata adesso dopo penso un'ora e mezza di dialogo che è presente in testimonianze in merito scritta dalla professoressa Maria Rosaria Stabili che è stata anche mia docente a Roma e cito verità è un racconto eticamente articolato dotato di un sostegno scientifico nato da un confronto intersoggettivo imbastito in termini narrativi con implicazioni affettive e perfettibile che racchiude tutto essenzialmente quello che abbiamo detto potrei iniziare e finire con questo guarda così bellissimo potremmo salutarci bellissimo sì io ovviamente invito la professoressa Gribaudi che è il professor Casellato se vogliono prendere parte anche appunto al seminario che faremo su Memorie dal Cratere di partecipare ovviamente di sentirsi liberi ovviamente vi invierò le locandine e gli inviti e nulla quando è previsto? a che? quando è previsto? non ancora non è ancora è ancora allora ce lo farete sapere benissimo l'unica data che ancora su cui ancora su cui sono certa è mi sentite bene o sta saltando qualcosa? ne chiamo ok è la data del seminario con il professor Macri che sarà il 21 del seminario sì nel caso in cui voleste di nuovo partecipare parlare con il professor Macri e magari lì potremmo affrontare il discorso della sega di Hitler che era rimasto sospeso ah sì l'ho suggerito a Paolo di leggere quel libro glielo devo dare sì va benissimo allora vi auguro un buon proseguimento di serata grazie 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 ancora grazie a voi buona sera buona sera